Il comitato Fessa Nerido ha cercato di svolgere, si svolgerà il 15 settembre, un evento che cerca di includere un po' tutto, oltre a un'inclusione, è anche un evento gastronomico, dove vogliamo far scoprire il nostro territorio. Infatti questo si svolgerà all'interno della frazione di Nerido, dove faremo attraverso una camminata che ci porterà nei tre chalet, che sono collocati in montagna, con questa camminata inclusiva con i ragazzi di Rurabilandia, e faremo una degustazione dei vini. Oltre alla degustazione dei vini ci sarà anche la degustazione dei prodotti tipici del posto, locali. Oltre alla degustazione ci saranno anche altri eventi all'interno dell'evento, dove ci sarà il registro Silvio Araglio che presenterà la lettura dei test di Dorotea Mazzetta e poi ci sarà un DJ che porterà fino alla fine della giornata, fino alle ore 18, mettere la musica e far divertire tutti i partecipanti. L'obiettivo del nostro comitato non è solo fermarsi a questa prima iniziativa, ci saranno altre iniziative. Nel periodo natalizio avremo altri eventi che faremo in comitanza con la Proloco. Nel 2025, a fine ottobre, presenteremo un programma di tutti gli eventi che faremo nel 2025, che saranno eventi per i bambini, eventi culturali, eventi sportivi, eventi letterari, dove tutto all'interno di questi eventi cercheremo di portare un'inclusione, perché è un tema molto delicato e che noi abbiamo a cuore e vogliamo portare in tutti gli eventi l'inclusione. Certamente l'evento è il programma di Nerito con la Kermess che ne segue. Nell'interno di questa storia c'è anche una lettura scenica di testi di Dorotea Mazzetta, il titolo è Oltre il buio, memorie di personaggi tra realtà e fantasia di un Nerito che non c'è più, visti da una bambina che aveva paura della notte, di quando le ombre lunghe scendono sul paese. Grazie a tutti.